sono le otto e mezza raga io purtroppo perso il pullman delle otto e venti perché sapete due settimane finiamo sempre tardi sta arrivando il pullman numero uno praticamente che mi porta in stazione prenderò l'altro prima possibile ma non so vi dirò dopo eccolo qua ci vediamo a casa o più tardi qua in strada ancora buongiorno ragazzi zoom zoom allora ma che giorno è ma che giorno è è mercoledì queste date 27 marzo mercoledì 27 marzo sono le otto e mezza raga adesso vi racconto tante cosine ma chi è questo ragazzo ma chi è questo qua ma sono io allora mi sono stampato con la fotina con la stampante a collo sia d'aria stampante ad aria bellissima la stampante ha oddio ha in getto di calore lì quel cavolo si chiama allora come stiamo oggi io sono cotto 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 ieri un'altra giornatina adesso vi racconto di ieri sera cosa è successo ho delle cartoline da farvi vedere aspettate qua oggi ho già lo zaino pronto per oggi faccio vedere subito poi mi butto a fare colazione raga eh allora questa viene da che carina sono tutte del post crossing forse o questa è da voi ciao paolo con piacere ti scrivo con le immagini della mia città dove vivo ora non so se ci sei mai venuto ma qui ci sono le terme è un piacere seguirti sei una persona dolcissima lorenza lorenza abbiamo dato una cartolina grazie dove vive lei bad mercantile no non ci sono mai stato wow che bello davvero non ci sono mai stato sai lorenza ok grazie poi questa vediamo un po questa viene dal post crossing dalla gran bretagna da julie o qua ci sono i francobolli grazie bella c'è un bel cagnolino affacciato a una portone insomma bellissima julie grazie e poi questa ancora dal post crossing dall'america dagli stati uniti tatania ecco il mio indirizzo raga per le cartoline e pacchettini questa è la cartolina che arriva sempre dall'america arriva sempre questo francobollo è questo francobollo volevo dire e c'è scritto wow i wyoming a dal wyoming wow che panorami col cowboy come nei film bene grazie allora grazie a lorenza e ragazze del post crossing vi mando un bacio intanto faccio colazione ci sentiamo tra poco c'è siamo c'è siamo ragalura sono nove meno cinque ho fatto colazione io do prima della colazione non ce la posso fa non è che dopo sia un grillo però allora cosa è successo ieri niente di paricoloso no niente ho finito sapete che io finisco alle 8 quasi sempre questa settimana sapevamo di non finire alle 8 alle 8 e 20 ho un bus quindi 8 e 40 sono a casa 8 e 35 più la camminata insomma fate conto 20 minuti il bus però ieri lunedì ce l'ho fatta facendo una corsa ce l'ho fatta a prenderlo ieri no era già partito che siamo usciti le 8 e 25 quindi alle 20 e 25 ovviamente della sera il bus era già andato quindi io ho questo vizio di andare in stazione a prendere l'altro però non riesco mai a prendere quello delle 20 e 40 e quindi devo aspettare quello delle 21 e 10 questo è successo ieri e sono arrivato a casa nove e mezza passate e quindi già la giornata era stata dura più quello vabbè adesso ho capito di aspettare lì al negozio io non voglio non vado in stazione perché lì non c'è la fermata lì triste e anche perché se vado in stazione il pulmono arriva a vuoto e mi prendo posto ma comunque non era pieno non è pieno a quell'ora va bene per farvi capire da adesso in poi oggi tipo se subito succede invece andare in stazione aspetto lì quei 20 minuti seduto fuori dalla fermata del supermercato e sono così arrivo a casa esagerando alle 9 e 10 non alle 9 e 40 della sera c'è assurdo bene quindi sono un po stanchino però mi sono svegliato e mi sto attivando adesso dicevo che appunto che sono quasi le 9 oggi non devo fare nulla perché ieri avete visto ho lavato la cucina avevo tolto la roba ieri nel senso dello sport nello scorso blog io intendo quindi non devo fare nulla solo cucinarmi una pasta solo questo una pasta da portare al lavoro ma una cosa veloce la faccio più tardi adesso mi metto a guardare mi metto sul divano poi stai facendo ginnastica intanto poi cosa volevo dirvi a che il blog di martedì sera dove c'era la descrizione c'è la descrizione l'unboxing la prova della macchina caffè è successo un patatrack perché vi ho messo tutto il pezzo del quando in cui mi mostravo la macchina del caffè in un punto che non c'entrava nulla un po più avanti nel blog quindi allora nell'insieme è venuto lo stesso carino però a un occhio attento c'era qualcosa che non andava perché mi sono svegliato mi ho mostrato il pacco sulle scale e poi la clip successiva doveva essere l'unboxing e tutto quanto invece è partita una clip in cui ero a letto poi mi alzavo e facevo il caffè con la macchinetta quindi voi avete visto la macchinetta ma senza spiegazione e dopo è partito quel video quindi un po di confusione poi ancora avete visto che la mattina alle 11 è uscito un pezzo 10 minuti di video in cui parlo di questa macchinetta dell'unboxing ma che voi avete già visto nel blog perché l'ho messo volevo fare un metterlo a parte con il titolo appunto della macchinetta perché chi come me vuole acquistarla io ho cercato video su youtube col nome della macchinetta ho trovato poca roba quindi nel mondo chi cerca il nome di questa macchinetta e questo tipo di caffè si ritroverà il mio video spero che sia di aiuto insomma l'ho fatto per quello quindi non è un video doppio è soltanto un'extra che ho voluto aggiungere specificando il nome della mia macchinetta del caffè caffè appunto quindi non spaventatevi non è un errore ho fatto apposta è un video di dieci minuti in cui mostravo la macchinetta insomma spero che attiri gente che cerca queste cose insomma sapete bene dopo avervi spiegato tutte queste cose la giornata come raga è bella per ora fredda di mattina è sempre fredda però dalle 19 in poi ha detto ragazzino cosa ci fa lì perché ci sono le ferie raga hanno due settimane di ferie ragazzi qua per la pasqua questa settimana è la prossima allora poi cosa dovevo dirvi ancora sì che stasera le 7 ha messo pioggia la metterà tutta la notte quindi stasera quando esco dal lavoro in teoria con l'ombrello ma stasera non mi frega se esco dopo le 8 e 20 rimango lì e aspetto il prossimo così alle 9 10 che già un orario umano ecco sono a casa ma non è detto perché oggi siamo in 4 raga ieri abbiamo lavorato in 3 non vi dico mamma mia le corse oggi siamo in 4 e dovremmo essere fuori puntuali insomma prima delle 8 e 20 insomma per farvi capire dai vado ci sentiamo tra poco tra una cosa e l'altra raga si sono le fatti si sono fatte le 10 e un quarto tra l'altro io sentivo un freddo a casa perché il riscaldamento non va più forte come d'inverno non lo so l'ho acceso in bagno adesso si è tiepido però vabbè si si può fare la doccia e il sole va e viene ma ci sono 14 gradi fuori a me mi sembra stamattina un freddo cane non lo so forse sensazione che ho in casa perché l'aria è sempre fresca insomma oggi ne mette 18 comunque mi sono fatto la pasta al sugo semplicemente il sughetto normale che avevo trovato della degusta mi stava cadendo tutto della degusta box era quello della cirio credo basilico e pomodorini ciapino ciapino si chiamano pomodorini ciapette perché volevo fare pasta al salmone ma poi mi è venuto in mente che venerdì devo mangiare pesce bisogna mangiare pesce insomma per chi tiene a queste cose tradizioni quindi ho fatto tutto il menù guardate raga oggi pasta al pomodorino al ciapette poi domani mi scongelo la carne gli spiedini di carne me li faccio domani con o verdurine insomma quello che trovo saltati in padella insalata vediamo che domani è giovedì poi venerdì che sono a casa ed ecco il venerdì venerdì santo a pranzo pasto e salmone di sera o i filetti di pesce li faccio di nuovo con le verdurine insomma con insalata un po di cipolla vedremo un po cercherò qualche ricettina mentre il sabato che torno al lavoro mi serve un altro pasto secondo me posso farmi un bel po di risotto risotto oppure un'altra pasta perché visto che poi per due giorni non mangio pasta insomma va benissimo ecco questo è il mio menù del finale a sabato e poi domenica si mangerà come maialini da mamma da mio fratello per la pasqua e lunedì pasquetta sono della zia vita bene siamo già arrivati alla pasquetta guardate come sono p 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 nolo puntuale preciso le tre p raga la poesia sono un po di blog che non vi faccio la poesia adesso ne scrivo una al volo e ve la racconto e me la leggo sono i 10 e un quarto dicevo devo solo far la doccia tutto pronto e affronteremo un'altra giornata vedremo poi che ora tornerò stasera a casa bene vi mando un bacione devo ancora rispondere ai vostri commenti del vlog di martedì sera, che per me è ieri, ma lo faccio sempre dal pullman, oppure adesso dopo la doccia, che ho un po' di tempo, scappo e ci sentiamo dopo. Questo non è il balletto, è il balletto della giornata, volevo dire. Undici meno un quarto, perfetto, ai mio naso, perfetto, visto che avevo tempo, raga ho fatto barba e capelli, mi sono tagliato i capelli, così abbastanza corti, mi sono anche tagliato, pulito la barba qua sotto e passata la macchinetta qua, così sono a posto per Pasqua, a parte che poi domenica, sì, domenica mattina posso darle ancora un colpo, ho appena pulito gli occhiali ma sono peggio di prima, ma che barba, quindi sono a posto anche per questo, avevo tempo, ho fatto anche la maschera, la maschera, al viso, bene, sono pronto per andare al lavoro, dieci minuti, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci sentiamo al mio ritorno stasera in un orario ignoto, spero il più presto possibile, vi mando un bacione grande, ho sentito mamma che stanno organizzando per la Pasqua, sono andata a comprare ancora qualcosa con la zia Rita, per Pasqua e per Squetta, adesso io vorrevo comprare una pianta a mia cognata, se riesco adesso, o anche domani, in realtà domani, che casetto raga, siccome non ho libero questa settimana, è un po' un casotto, venerdì ovviamente è festa, grazie a Dio perché sono a casa, però non posso andare a comprare nulla, volevo comprare una pianta a mia cognata, mio fratello, almeno da portarli a Pasqua, non ho comprato nulla, e volevo anche comprarmi una camicia da mettere, con dei pantaloni bianchi, che ho, però dovrei uscire domani mattina, o sabato mattina, forse sapete che è meglio sabato mattina, perché poi lavoro sabato e poi mi riposo, non lo so, che mi girano in testa, allora se non torno stasera tardi come ieri, vado domani mattina, alle 9 prendo l'autobus, vado al centro commerciale grande, e vado a comprare sia la pianta, che la camicia, facciamo così, vedremo, 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 vi aggiorno. Raga, ma è vero che c'è caldo, che si sta bene, ci sono 15 gradi, era proprio la sensazione di freddo che avevo a casa, perché sicuramente la casa si raffredda di notte, però veramente si sta benissimo, sì, io ho la giacca, ho il giubbottino, però quasi non serve, sì, bello, bello, ma d'altronde a me sui prossimi giorni, vi ho detto, fino a 23 gradi, incredibile, poi ci saranno sbalzi comunque su e giù, nelle giornate, però un picco di 23 gradi l'ha messo, sabato mi sembra, ok, io sarò dentro al lavoro, quindi non ne godrò, ok, ci sentiamo stasera. Raghi, si torna a casa, oggi puntualissimi, sono le 20.42 minuti, sono qua, arrivato praticamente, adesso, oggi c'era lavoro, ovviamente, anche un bel po', però essendo che eravamo in quattro, siamo usciti alle 8.11, sì, timbrato 8.11, quindi perfetto per il mio bus delle 20.20. Sono contento, adesso vado a casa, il mio solito caffè, devo dire, raga, che devo aprire un pacchetto, che però è arrivato ieri, ma io ieri ero talmente cotto che non ho visto il pacchettino sulle scale, perché appunto mi era stato consegnato ieri, la persona che mi ha mandato il pacco, ovviamente, aspetta questa apertura, anch'io curioso di vederlo. Comunque, ringrazio intanto Fabio che è stato lui a mandarmelo, adesso arrivo a casa, apro il pacchetto, non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro, e poi chiacchieriamo ancora. Eccomi a casa ragazzi! Allora, intanto penso che sia l'ora di buttare questi fiori, ma mi dispiace, però sono già tutti secchi, stanno per cadere, anche quelli sono neri praticamente. Va bene, ma a parte questo, qui ho il pacchettino di Fabio, ma prima vi faccio vedere due cartoline che sono arrivate, vediamo, che sono arrivate. Allora, dal post-crossing, dalla Finlandia, ecco qui, uh, con l'ovetto, ma che bello, Franco Bolli top. Ah, in Finlandia c'è l'euro, effettivamente. Vediamola, uh, andiamo a raccogliere il grano, il grano. A proposito, no, no, non di grano, mi sono dimenticato di scrivere la poesia, ci penso dopo, non mi sono dimenticato, cioè mi sono dimenticato, ma non, ve la, ve la, per la vostra gioia, ve la, ve la leggerò. Intanto questo è il grano, eccetera, raccoglimento di grano, credo, la paglia, no, paglia, che cos'è? la paglia, bellissima. Poi dalla, dalla dove? Singapore, wow, che bella grossa questa cartolina. Ah, da Philips, Philis, Philis, dalla, da Singapore. Invece questa era firmata, è da Tina, dopo io me la leggo sempre, ovviamente. Tina. Bene, bene, vediamo quella di Singapore. Oh, my God, che bella. E che bellissima, spettacolare. Lo skyline, stupendo, wow, bella, 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 bella. Guardate, sembra che sono lì. Ok, dai, grazie, andiamo a vedere il pacchettino che è già tagliato con la forbice e già ho visto una cosa, ho visto dei chicchi di caffè e poi, una scritta coffee. Oddio, c'è un rumore? No, c'è un rumore strano. Speriamo bene che i corrieri sono birichini. Vediamo cosa c'è scritto. Aspettate per non vedere gli indirizzi. Ok. Ah, nei regali, no, nei momenti di relax un buon caffè è sempre a portata di mano ovunque e tu vada. Buona Pasqua, Fabio, grazie. Allora, avevo immaginato che fosse una tazza, mi spaventa, mi spaventa il fatto che ci sia questo rumore. Non vorrei fosse rotta, ti prego. Ah, no! Arrivo. Ho capito, wow, aspettate. Eh, qui vuole fare il... questa è una cosa che ho sempre voluto perché però non me la sono mai comprata. È un termos per il caffè, meglio di una tazza. Oddio, vi aspettavo la tazza con gli orsettini, va bene, ma comunque... sto scacciando, eh? Ecco il rumore che sentivo. Pensavo che era una tazza e si era rotta. Allora, coffi. Vediamo un po'. Adesso devo capire un po' come si apre. Ah, così. Aspettate perché con una mano... ma se io faccio così... ok. Perdonatemi, ci sarà l'audio un po' meno potente, però... ok. Però riusciamo... riusciamo a vederla. Allora... non cambia niente, io sono imbranato. Come si aprirà? Beh, intanto giri, si gira. Ah, ma c'è la cannuccia! C'è addirittura la cannuccia. Vedete, è un termos. Wow, adoro, adoro, per farmi il caffè lunghissimo da portarmi in viaggio. Poi... Stavo pensando, è una cannuccia o bisogna tenerla qui? Non è una cannuccia, bisogna tenerla dentro, credo. Adesso mi viene il dubbio. Comunque io volevo cercare... dopo leggo le istruzioni, se mai ci fossero. Ma per me non ci sono. Aiuto! Allora, volevo cercare... questo è per appenderlo... Come si apre? Ah, così... guardate... ci voleva un po' di forza. Questo non si apre, credo. Questo... Non si apre. E poi si beve da qua. Ok. Questo si apre o non si apre? No, questo penso sia solo un blocco. Ok. E quindi, questa è una cannuccia, no? Deve stare qua? Deve stare qua questa? Non lo so, fatemi sapere prima che la vado a utilizzare. Non è una cannuccia perché non entra nel buco. Quindi... Non so se deve stare qua. Faccio così, ma non esce. No, cosa sto facendo? La lascio così. Fatemi sapere voi, anti Fabio, magari, prima di utilizzarla, cosa devo fare? Grazie mille, ma no, io mi emoziono. Grazie mille, sono contentissimo. O italiana, tra l'altro. E beh, da Milano, ovviamente. Grazie. Il bigliettino lo conservo. Non ci sono le istruzioni. Dovrebbero fare solo le istruzioni per Paolo Channel. Comunque, mi conservo questo. Questo non serve la ricevuta. Grazie mille. Ci sentiamo dopo. Bene, raga. Mi disbaglio sempre. Ho sempre la camera opposta. Allora, grazie mille Fabio ancora. Bellissimo. Lo utilizzerò presto, in questi giorni. Grazie. Adesso vado a rilassarmi. Il mio caffè è già pronto. Sono le nove. Anzi, neanche le nove. Il mio caffettino è qua. Bello cremoso. Con la tassa Nescaffè, vabbè. E poi, niente, mi vado a rilassare, raga. Noi, se riesco, mi saluto ancora dopo. Se no, ci sentiamo domani mattina. Domani giovedì, raga. Quindi, qui è come un sabato. Vi ho già raccontato. Perché venerdì è festa. E poi venerdì super relax. Mi aspettavo che piovesse alla mia uscita dal lavoro. Invece non è ancora piovuto. Forse lo farà stanotte. Non si sa. Lo vedremo. Non fa freddissimo. C'è un po' di vento. Ho già fatto 19 gradi, tra l'altro. Non tanto sole, ma 19 gradi. Quindi, vi mando un bacione. A dopo o a domani mattina. Grazie ancora di tutto. Raghi, prima ho detto che non pioveva. E poi ha cominciato a piovere. Vabbè, c'è anche un po' di vento. Mi stavo guardando le aperture delle uova di Pasqua. Quelle della Kinder sono spettacolari. Questo prodotto trovato in questo uovo. Mamma mia, che carino. No, volevo dirvi una curiosità. Io ho già detto che qua ci sono i giorni del silenzio. E il venerdì è venerdì santo. E uno di questi. Sono nove. Stavo leggendo prima. E non si può ballare. Sia, ovviamente, domani notte. Perché comincia il venerdì santo. Mezzanotte, ovviamente. E' tanto meno venerdì. Quindi si ritorna a ballare sabato. E ci sono delle proteste. Ogni anno, praticamente. Che vogliono togliere questo divieto. Io ho detto che... E non so in quale regione. Io parlo sempre della Baviera. C'è questo divieto. Insomma, hanno fatto queste proteste. Tipo a Norimberga c'era un comitato che si chiamava Vogliamo Ballare. Ecco. Ma purtroppo la chiesa in Baviera è molto potente. Quindi, ci sono tante festività religiose. Devo dire che adesso che faccio questo lavoro, grazie a Dio, appunto, Dio. No, ve l'ho detto non a caso. Perché a maggio, tipo, sono tantissime sto a casa io. Perché i negozi sono chiusi. Ecco, volevo dirvi questa curiosità. Le proteste per ballare, insomma. E va bene. Adesso vi lascio veramente. Intanto mi sono ricordato di togliere la carne per domani. Meno male, gli spiedini e un po' di verdure che erano congelate. Quindi domani mi cucino questo. Perché a venerdì, appunto, non si mangia carne. E io ho già il menù, ve l'ho detto, stamattina. Vi mando un bacio. Buon giornissimo. Oh, mamma mia. Raga, mi sono svegliato adesso. 8 e 5. Bellissima giornata, almeno. Sembra, ma ha messo ancora pioggia verso mezzogiorno. E poi dovrebbe venire bello. Non si sa. Giovedì. Affrontiamo questa giornata. Ultima, nel senso, non è ultima. Ma domani sono libero. Poi c'è ancora il sabato. Oh, Dio. Però ho dormito 8 ore. No, di più. 8 ore e mezza. Decila, raga. Mi ha fatto bene. Adesso bevo ancora il caffè. Faccio colazione. Così sono super attivo. Tio meno. Va bene. A tra pochissimo. Buongiorno. Buon. Giovedì. Eccomi qui. Buongiorno di nuovo. Allora, sono ancora in tempo per stare sul divano. Devo solo cucinare. Allora, al lavoro ho preso degli spiedini. Però, siccome ieri ho scongelato insieme alle verdure da saltare in padella, ho deciso, invece di mettere in frigitrice d'aria, gli spiedini che comunque diventano secchi. Faccio tutto in padella, gli spiedini, li spiedo, no, li spiedo, no, li spiedo, no, li spiedisco, li spiedisco, sì. Ve li spiedisco a voi, mandatemi in indirizzo se volete degli spiedini di carne. Mamma che faccia. No, li tolgo lo stuzzicadonte, pezzettini di carne, insomma, faccio così, tutto in padella, avete tolto, li tolgo lo stuzzicadenti e li metto in padella insieme alle verdure. Non so se avete capito. Faccio tutto in padella, insomma, che ci vorrà una mezz'oretta per cuocere ed evviene più buono perché se no mi rimangono troppo secchi. Bene, questo volevo fare, volevo dirvi. Mentre sono le nove meno un quarto, alle nove mi alzo, ho deciso. Devo solo fare quello, raga, solo cucinare e fare la doccia. E fare la doccia. Dovevo andare oggi, vi ricordate, al centro commerciale, a quello grande, a prendere la pianta per mia cognata e la camicia per la Pasqua. Però, praticamente non c'ho voglia. Quindi vado sabato mattina. Quindi sabato sarà una super lunga giornata, ma poi c'è la pausa festività, diciamo così. Allora, ci sentiamo tra 15 minuti, quando mi alzo dal divano e comincio a cucinare. Eccomi qua, come promesso, alle nove di punto mi sono alzato. Io mi do degli obiettivi e quelli devono essere. Allora, sono qui a preparare la cena. È una cena rara, anche se è fatta il pomeriggio, lo sapete. Praticamente sono questi i rispiedini. Ho questo giro qua. Sono questi che ho scongelato. E io li toglierò lo stuzzicone e li butterò qui. Queste sono le verdurine che io uso anche come minestrone, vanno bene, però si possono fare, come vedete, anche in padella. Quindi le metterò però dopo. Prima faccio cuocere un po' la carne, li taglierò anche due pomodorini. E forse... no, li volevo mettere un po' di fetta, ma come vedete qua c'è il formaggio, quindi niente fetta, raga. Allora faccio questo e poi magari vi faccio vedere il risultato. La due olive, non mancheranno sicuramente. E domani, come vi ho detto già, menù di pesce. Vado, faccio e noi ci sentiamo tra poco. Aiuto. Stavo perdendo l'equilibrio. Ah, io non ho fatto il balletto. Ah, la poesia. Adesso scrivo la poesia. Tema? Ecco il tema che mi manca. Il tema. La cucina? Dai, proviamo con la cucina. A tra pochissimo con la poesia. Eccomi, raga. Allora, preparatevi al trash. Mi raccomando, attenzione a come commentate. Ho scritto la poesia in pochi secondi. Una meraviglia trashosa per il mio canale Paolo Channel. Allora, mi raccomando, condividete e acquistate il libro che uscirà tra poche settimane su Amazon. Le poesie di Paolino. Allora, comincio. Il rosso del fornello illumina la cucina. Odore di spezie sulla stanza. Il coltello affonda nella carne per creare cubetti da spadellare. Pioggia di verdure. Olive colorate e pomodori color ambra. Sale come neve. A concludere la magia della cucina. Grazie mille. Alzatevi in piedi. Standing ovation. Vado a fare questa meraviglia di piatto. Mando un bacio e ci sentiamo dopo. Mamma mia che vergogna. Ciao a tutti. Allora raga, qui sfrigola tutto. Gli ho aggiunto le verdurine e tante spezie. Guardate. Mamma mia che bel piatto. Wow. Vedete che è più colorato. E niente. Quindi lascio cuocere. Penso un quarto d'ora e venti minuti al massimo. E' pronto. Sono le nove e venti. Bene, 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 bene. Prontissimo raga. Il cibo è pronto. E solo poi da... Se lo faccio raffreddare poi lo metto nel suo contenitore di plastica. Tra l'altro ieri, un'altra giornata che sono arrivato cotto anche se presto, vi ricordate. Ho lasciato lo zaino praticamente abbandonato lì. Quindi ho ancora dentro la bottiglia con l'acqua che non era finita. La ciotola lavata ovviamente perché abbiamo la lavastoviglia. Quindi butto sempre la roba. I contenitori così li lavo lì. Anche la maglia è rimasta qua tutta appiccicata, tutta spiegata. Benissimo. Vedete la bottiglia. Guardate, ho avuto un po' non tutta ieri. Il contenitore qua che ho lavato e poi ci metterò. E' terribile il sugo raga. Nei contenitori di plastica rimane sempre il velo rosso. Anche lavato in lavastoviglia acqua bollente. Mamma mia, guardate. Odio. Infatti dovrei trovare questi in vetro ma... Sono più pesanti eh. Perché il sugo è terribile. Anche oggi ho il coso rosso e poi vediamo cosa succederà. Eh, niente. Quindi mi rifaccio l'acqua perché... Ecco, il portafoglio è caduto. Nello zaino. Cappellino che non sto usando ma in realtà ieri sera ad esempio c'era a caldo 15 gradi. Ma un vento gelido e non avevo il cappellino mi sarebbe servito. Però diciamo lo sto usando sempre di meno. Bene raga, adesso io devo editare anche questo vlog ma ho ancora tempo. Vi saluto ancora. Adesso vado a... Cosa devo fare? Stavo guardando dei video su YouTube. Ah, preparo... Ah, ecco. Preparo la roba per il lavoro. Ecco cosa dovevo fare. Accendo un attimo il riscaldamento in bagno anche se non c'è freddissimo. Io addirittura ho aperto. Vedete, mentre cucinavo ho aperto la finestra e non ho freddo a differenza di ieri. Non lo so. Bene, ci sentiamo tra pochissimo. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Cosa ho trovato nell'armadio. Cioè, sapevo... Ma siccome io ho sempre il problema che ingrasso e dimagrisco. Non so mai se la roba mi sta. Insomma, ho trovato questo. Vediamo se in questo specchio riesco a farvelo vedere. Questa camicia. Guardate questi pantaloni. Così sono pronto per la Pasqua. Che dite? Forse nello specchio in camera da letto. C'è un casotto anche qua. Forse riesco a farmi vedere bene perché è difficile. Ok. Non ho... Così. Questo è l'outfit. Che dite? Va bene per Pasqua? Vedremo. E quindi io non ho bisogno di comprarlo. Questa è bellina. Oddio, mi sta un pochino giusta. Aspettate. Però, è abbastanza comoda. Tanto farà caldo. Vediamo un po'. Mi abbottono così. Vediamo. Volevo farvi vedere questa curiosità. Così non devo comprare nulla. Mi piace. Anzi raga, adesso sono pronto. Sì, vabbè, sono un po'. Mi devo sistemare. Aspettate. Questo. Ho messo il maglioncino. Anche perché se fa caldo, fa freddo. Sì, sono un po' scombussolato. Andiamo di nuovo nello specchio qua. I test. Almeno sono pronto. E ho già tutta la roba. Che dite? C'è questo maglioncino. Però questa fuori o dentro? Così. Perché col maglioncino è meglio fuori. Cioè, è meglio dentro. Però senza maglioncino è meglio fuori. Insomma. Va bene. Penso che... Penso che ce la faccio. Metto le foto, eh. Sugli social poi. A dopo! Bene, sono tornato in me. Casalingo. Allora, alla fine metterò poi anche le scarpe bianche della Lacoste. Che ci stanno benissimo. Diciamo che sono un po' vestito, un pochino come la comunione... No, la cresima che aveva fatto Lara. Due anni fa, l'anno scorso, due anni fa, penso. Un pochino l'outfit è quello. Forse avevo un'altra camicia. Avevo una camicia nera. Che tra l'altro ce l'ho e mi sa che forse... Adesso vediamo un po' se proverò anche con quella. Comunque raga, sono le dieci. Passate da pochi minuti. Vi devo salutare. Edito questo vlog che metto subito stasera, giovedì appunto. Vado a fare la doccia. Mi metto... Preparo tutto lo zaino. Vi mando un bacione grande. Vi ringrazio sempre a tutti che seguite i miei video. Stanno andando sempre bene. Soprattutto i vlog. Ma tutti i video che faccio. Grazie, grazie. Vi mando un bacione. Vi voglio bene. Un like, un commento. Condividete il video. Tutti i miei social li trovate qua sotto. Poi pubblicherò altre fotine. Anche a Pasqua. Grazie. Vi voglio troppo bene. Ci sentiamo sabato. Sabato sera con un nuovo vlog. Bello. Domani mi godrò questa giornata a casa. Oggi invece al lavoro ci faranno correre. Vi mando un bacio. Vi voglio tanto bene. Ciao.